Prima e dopo il restauro. L'annunciazione della Vergine Maria con l'Arcangelo Gabriele nel sottoportico di Palazzo Angeli in Prato della Valle, Angolo Corsu Umberto I, ora è tutta un'altra cosa. Due mesi e mezzo di lavori di restauro, dal 18 ottobre al 30 dicembre, hanno restituito alla città l'opera di Jacopo da Montagnana, tra i maggiori pittori della seconda metà del Quattrocento. La Urv Spicta non è solo dentro le chiese, dentro le cappelle, dentro i palazzi. Nel XIV secolo i palazzi, molti palazzi, penso al Battistero, erano affrescati all'esterno. Passando sotto i portici, sul lato di Corsu Umberto I, varrà la pena alzare lo sguardo verso il soffitto, osservare l'ambiente architettonico nel quale Jacopo da Montagnana ha inserito Maria e l'Arcangelo Gabriele, al quale ha disegnato un umanissimo leggiadro piede. È una bellissima annunciazione che dialoga con le annunciazioni di Giotto e di Giusto. Era una bellissima opportunità per far sì che l'itinerario della Urv Spicta avesse degli elementi puntuali non solo negli edifici ma all'esterno. È un'antica tradizione che viene rinverdita e quindi un grazie sincero alla società che ha voluto usare questo percorso di mecenatismo. Grazie. 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 Grazie.